Non è detto che ne abbiate sentito parlare ma questo LG Q8 ha una doppia fotocamera, un doppio display, è compatto, è impermeabile e adesso è disponibile anche in Italia. Scopritelo nella nostra recensione completa. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it e benvenuti nella recensione di LG Q6. Si tratta a tutti gli effetti di un top di gamma, top di gamma che comunque ha un suo senso ma se proprio dobbiamo essere onesti top di gamma dello scorso anno. Per fortuna, questo lo posso anticipare, non ha il prezzo di un top di gamma di quest'anno anche se come vedremo il prezzo non è proprio dei più allettanti. Andiamo a vedere la confezione manuale pin per aprire la sim, scatolina che contiene le cuffie, noi non le abbiamo provate perché nella nostra confezione le cuffie non c'erano. Cavo USB USB Type-C e alimentatore 9V 1.8A. Ricompongo al volo la confezione e la metto da una parte. Perché? Perché è arrivato il momento di andare a scoprire LG Q8. LG Q8 è uno smartphone di fascia alta, chiariamo subito questa ambiguità. Q8 è stato lanciato sul mercato giapponese, se non vado errato in esclusiva per un operatore giapponese. Aveva un altro nome, faceva parte della famiglia V, qui invece fa parte della famiglia Q, che per adesso contava soltanto Q6 con schermo full vision, ma non è questo il caso. Dimensioni 149, 71,8, 8 mm di spessore, leggermente bombato tutto il modulo che contiene tutto il sistema della doppia fotocamera. Il lettore di impronte digitale invece è leggermente incassato. Questa parte centrale è realizzata in metallo, mi piace questa dualità qua fra il bordo stondato e invece il profilo completamente tagliente. La parte superiore in plastica un pochino più scura è appunto, come ho appena detto, in plastica e però prosegue anche sulla parte frontale, dando di questo bicolor, se vogliamo, che non mi dispiace. Forse questo bicolor mi ricorda smartphone di un'altra azienda, ma onestamente secondo me non è così importante, anzi, come detto, mi piace. Sportellino, bilanciere del volume, anzi due tasti per il volume, superiormente abbiamo sia la porta infrarossi che il secondo microfono, sotto invece abbiamo il primo microfono, speaker, porta Type-C e jack audio da 3,5. Andiamo a levare le notifiche, pesa 146 grammi, quindi non pesa tanto, ma soprattutto la cosa più interessante è che è resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP67. Parliamo invece di hardware, abbiamo un processore Snapdragon 820 quad core da 2.15 GHz con GPU Adreno 530, quindi in sostanza, come vi dicevo, abbiamo un processore top di gamma, anche se è un processore top di gamma dello scorso anno. 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, espandibili, connettività LTE fino a 300 Mbps, Wi-Fi ABGNAC a doppia banda, Bluetooth 4.2, c'è l'NFC, c'è il radio FM, c'è il lettore di impronte digitali che tra l'altro è veloce e preciso, ciò che non c'è è il LED di notifica. Vi faccio vedere, tocco il lettore e si sblocca rapidamente e tra l'altro praticamente sempre, non ho praticamente mai avuto problemi parlando di sblocco con lettore di impronte digitali, non c'è il LED di notifica perché vi faccio vedere se andiamo a bloccare lo smartphone, vedete che su questo second display, che poi io ho provato a guardarlo in varie condizioni, secondo me non sono convintissimo che sia davvero un second display invece di una specie di display tagliato, non so poi onestamente se è davvero qualcosa di possibile, però vi sto soltanto dando una mia idea, visto che onestamente questa cosa non lo so, abbiamo questo secondo display su cui tra l'altro possiamo interagire, quindi per esempio possiamo andare, vedete, accendere la torcia semplicemente premendo questo toggle, il che è molto comodo senza dover sbloccare lo smartphone, smartphone che si risveglia con, ah no, si si, si risveglia con un doppio tocco, scusate, però in questo caso tenendolo in mano è meno preciso, eccolo qua, si risveglia con un doppio tocco, potete mettere se volete il no code, ma ovviamente non ha poi così tanto senso considerando che si può sbloccare semplicemente poggiando il dito sul lettore di impronte digitali. Andiamo nelle impostazioni, impostazioni per mostrarvi che Android ha la versione 7.0 di Nougat, vediamo se c'erano scritte anche con le patch di giugno, e poi abbiamo un display, un display da 5.2 pollici, quad HD 2560x1440 pixel in tecnologia IPS, quindi è un quad HD, risoluzione devo dire molto alta, veramente molto molto alta, non è forse il miglior pannello in circolazione ma è assolutamente un buon pannello, quindi si tratta di un buon display, più questo piccolo schermetto qua sopra che è un 160x1040 pixel, e devo dire che l'effetto è veramente gradevole perché sì, non sarà un full vision ma è un po' come se lo schermo arrivasse fin quassù, dove invece poi abbiamo tutti i vari sensori e la fotocamera frontale. Il display come detto mi piace, la luminosità forse leggermente tendente al risparmio, è un po' come se fino all'80% circa stesse un po' su un risparmio energetico e poi invece tutto insieme fra l'80 e il 100 sparasse moltissimo di più, però tutto sommato è comunque un buon display e devo dire che comunque la regolazione automatica, a parte questo piccolo difettuccio, funziona abbastanza bene. Che cosa si può fare con questo second display? Quindi arriviamo a parlare di software. Possiamo mettere un messaggio a piacimento, io ho messo tre emoji perché onestamente non sapevo bene che cos'altro avrei potuto scriverci, non mi andava di scriverci il mio nome. Qui abbiamo dei vari toggle rapidi, qui abbiamo delle applicazioni preferite, la possibilità di controllare la musica e se andiamo nelle impostazioni, che è una delle voci che ho lasciato lassù, se andiamo nelle impostazioni possiamo andare a impostare tutte le sue funzioni. Altre funzionalità sono le app recenti, che sono queste in questo caso, i contatti rapidi e i prossimi appuntamenti. A schermo spento invece potete scegliere se mostrare predefinito la data e l'ora o la propria firma e poi abbiamo il time out dove è possibile andare a spegnere il display secondario quando in sostanza nell'orario in cui vogliamo noi, quindi se magari vogliamo che anche quella piccola luce si vada a spegnere magari di notte. Una cosa che mi piace molto è che mentre abbiamo altre applicazioni aperte, qua su vengono mostrate le notifiche. è probabilmente la funzione che ho più apprezzato di questo smartphone perché mentre state lavorando, scrivendo, facendo qualsiasi cosa che vogliate qua appare la notifica e potete guardarla senza dover tirare giù la tendina perché avete subito un'anteprima. Se poi ovviamente si susseguono varie notifiche andranno qui a incasellarsi una dopo l'altra. Vi faccio vedere per esempio se apriamo un'applicazione che supporta immagini full screen, qua su è possibile continuare a vedere le notifiche presenti, l'orario, lo stato del wifi eccetera eccetera. Insomma un second display, lo avevamo già visto sul V20, che ha sicuramente un senso e che personalmente apprezzo. Per quanto riguarda le altre funzionalità software, allora iniziamo dal browser, ovviamente andiamo a fare il nostro test. Lasciamo caricare, notizie tragiche devo dire dal resto del mondo purtroppo. Scopriamo un attimo. Ok, è finito di caricare, sì, non l'avevo visto, perdonatemi. Qui dietro c'è una pubblicità abbastanza grande, però devo dire che le performance dello scroll sono comunque buone, non ci sono lag di nessun tipo. E questo ovviamente possiamo quasi darlo per scontato considerando che a bordo c'è uno Snapdragon 820, che è uno degli ultimissimi top di gamma dell'azienda di Qualcomm, quindi uno degli ultimi processori, uno dei più potenti, benché non sia ovviamente quello di quest'anno. Altre funzionalità, possibilità di personalizzare la barra qua sotto, quindi scegliere se farla nera, se farla bianca, se andare a, tra l'altro avevo messo le impostazioni anche qui, se andare a aggiungere nuove funzionalità, vi faccio vedere, quindi la possibilità, per esempio, di inserire le notifiche o di attivare Qslide, quindi di attivare applicazione in finestra, possibilità di attivare rapidamente Capture Plus, che è il software per prendere appunti, che devo dire, siccome questo è stato il mio smartphone per IFA 2017, ho preso molti appunti grazie a questo smartphone. Abbiamo la vista comfort, non mi ricordo se avevo messo il toggle rapido qui, eccolo qui, quindi la possibilità di filtrare la luce blu del display per poter leggere senza affaticare la vista, e poi abbiamo l'iFi quad DAC, stavo dicendo DAC. Il quad DAC ovviamente non si può attivare se non andiamo a inserire le cuffie all'interno dello smartphone, sicuramente veramente una funzionalità interessante, un componente hardware veramente interessante perché permette di avere un audio di qualità superiore, e questo è sicuramente un dato di fatto. Altra funzionalità, abbiamo gli smart settings, se li ritrovo, se mi ricordo dove stanno, forse qua in generale, ovvero in sostanza l'attivazione di funzioni precise quando siamo a casa, lontano da casa, quando mettiamo gli auricolari o quando connettiamo il bluetooth, quindi un piccolo sistema di automatismo. In più c'è il smart bulletin, che però io ho disattivato, per avere dei consigli durante la giornata. Parliamo di fotocamera. Abbiamo una doppia fotocamera, una 16 megapixel f1.8, 78 gradi è il campo visivo della fotocamera, quindi un pochino stretto, ma invece è ampissimo il campo della 8 megapixel, ovvero un 135 gradi f2.4 in questo caso, quindi soffre sicuramente di più quando c'è poca luce. Stabilizzatore ottico sulla fotocamera principale, laser autofocus qui nel mezzo, accanto al doppio LED flash della stessa tonalità. Fotocamera frontale 5 megapixel, 120 gradi, invece in questo caso il campo visivo, quindi devo dire molto ampio. Riuscite a farvi tranquillamente dei selfie di gruppo, anche semplicemente leggendo lo smartphone in mano, senza bisogno di nessun selfie stick, e tra l'altro f1.9. La fotocamera, quindi, dotata di un buon numero di funzionalità, fra cui la modalità manuale e la modalità anche video manuale, con, tra l'altro lo vedete qua, qua c'è il v-meter e la possibilità di andare a regolare l'audio, cosa che veramente tutti gli youtuber o tutti, diciamo, i videomaker della domenica che usano lo smartphone per questo scopo apprezzeranno veramente tantissimo. Io onestamente apprezzo tantissimo. Abbiamo, fra le varie modalità che non sono tantissime, il pop-out, quindi l'utilizzo di entrambe le fotocamere, quindi in pratica, come vedete, la possibilità di aggiungere una vignettatura, una sfocatura, il bianco e nero, oppure un effetto fisheye, alla seconda foto fatta con la seconda fotocamera. Potete anche scegliere come questo pop-out deve apparire. Il multiview, quindi in pratica le fotocamere che lavorano contemporaneamente, oltre anche alla fotocamera frontale. lo scatto in movimento, lo slow motion, ma soprattutto appunto il tasto per passare alla fotocamera grandangolare. Qui abbiamo, tra l'altro, anche i filtri per fare i video in modalità manuale con dei filtri precisi. Questa cosa mi ricorda un po' la funzione del nuovo V30. Per quanto riguarda la videocamera, vi faccio vedere una piccola clip registrata a Berlino, in cui si riescono a vedere entrambe le fotocamere. Questa è quella grandangolare, ovviamente. Alla fine mi sa che vi ho fatto vedere una clip solo con la fotocamera grandangolare, mea culpa. Allora andiamo a vedere questa. Ecco qui. Guardate il cambio, che differenza c'è di inquadratura. Questa è la porta di Brandenburgo, fra la fotocamera classica e quella grandangolare. Veramente incredibile. E ovviamente, come vedete, è possibile passare da una all'altra durante la registrazione video. Registrazione video fino in quattro campa, oppure full HD a 60 fps. Andiamo ad aprire Modern Combat 5, anche se ho il terrore che mi farà riscaricare dei dati. Mi sa proprio di sì. Ok, mettiamole a scaricare. Non so se li scaricheremo in tempo, ma è comunque uno Snapdragon 820. Tutti i giochi 3D girano molto fluidamente. Scalda appena appena. Non è niente di drammatico. Guardate un utilizzo comodissimo del second display, ovvero guardare in tempo reale i download mentre continuate a usare uno smartphone. Per esempio, per me è stato comodissimo mentre lavoravo, caricavo le foto su Dropbox e qui vedevo l'avanzamento. Mi era molto comodo per continuare a fare altro mentre qua su vedevo se l'upload su Dropbox stava davvero avvenendo. Facciamo una telefonata di prova. Quindi porto fuori lo smartphone. 190. Viva voce. Speaker inferiore. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone. Ti ricordiamo che la chiamata al numero 190 è gratuita solo se sei un... L'audio, devo dire, è limpido. Non è altissimo il volume, ma l'audio, devo dire, è particolarmente limpido per questo smartphone. Abbiamo una batteria, una 3000 mAh, non removibile. La ricarica è abbastanza rapida. Abbiamo visto che c'è un 9V 1.8A. per, ecco, forse è il punto un pochino più debole secondo me di questo smartphone, perché l'ho utilizzato in fiera, tra l'altro arrivandoci in svariati casi alla fine della giornata, ma ci sono stati degli utilizzi particolari che me lo hanno fatto scaricare più rapidamente di quanto avessi voluto e non mi è durato fino alla fine della giornata, il che, onestamente, è stata una piccola delusione per me. Non è uno smartphone con un'autonomia disastrosa, ma nella lista, tra virgolette, dei top di gamma di quest'anno, è uno di quelli che, secondo me, sta un pochino più in basso. Quanto costa questo smartphone? Questo smartphone è, in Italia, un'esclusiva di Amazon. Costa 599€, ma, attenzione, Amazon stesso, che appunto è l'unico che vende ufficialmente questo smartphone in Italia, lo vende a 499€, prezzo che lo rende sicuramente molto più interessante, anche se, ormai, in questa fascia di prezzo, ci sono altri dispositivi, diciamo, top di gamma o simili top di gamma, che gli danno sicuramente del filo da torcere. È comunque un buon smartphone, l'avrete capito, è costruito bene, ha un buon display, ha un second display, ha un quad h audio, è impermeabile, ha una doppia fotocamera, ha il lettore di impronte digitali, e, cosa che mi è piaciuta rispetto alla stragrande maggioranza degli altri top di gamma in commercio, è il fatto che ha uno schermo da 5.2 pollici, quindi, anche senza avere un full vision, comunque, in mano si tiene molto bene. Anzi, abituati al giorno d'oggi che i top di gamma solitamente sono enormi, questo non trasmette, magari, a un primo acchito, l'idea di essere un top di gamma. Invece lo è. Tra l'altro, ha scaricato Modern Combat 5, quindi, posso anche avviarlo prima di concludere la recensione, così vi faccio vedere anche questo, giusto per confermare le parole. Alzo il volume, lo speaker è qua sotto, quindi speaker mono, però, come vedete, anche se ci poggio il dito, non soffre troppo del fatto che sia stato coperto. Ok, aspettiamo, aspettiamo pazientemente. Quanta pazienza avete oggi? Dai, Modern Combat, sono sicuro che ce la stai per fare. Non ho idea del perché ci stia mettendo così tanto, e quindi, io nel frattempo sono invecchiato, e quindi ho 99 anni. Come vedete, nonostante lo smartphone sia affaticato dalla prova, stia leggermente scaldando, le performance sono assolutamente ottimali. Per questa recensione di LG Q8 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it